Dottor Vaghi, l'anticorpo monoclonale Mepolizumab è il primo ad essere stato rimborsato in Italia per tre diverse patologie oltre all'asma grave. La rinossinosite cronica con poliposi nasale, la granulomatosi eosinofila con poliangioite e la sindrome iper-eosinofila. Perché il Mepolizumab può essere definito un trattamento di precisione? Diciamo che è un trattamento di precisione perché ha un bersaglio preciso. La nozione di trattamento di precisione ci deriva dall'oncologia. Dove è possibile che un farmaco biologico possa andare a colpire un recettore che è importante per la proliferazione neoplastica. Allo stesso modo qui utilizziamo dei farmaci biologici che hanno un bersaglio preciso. In questo caso il bersaglio preciso è rappresentato dall'interleuchina 5. L'interleuchina 5 sappiamo che è l'acitochina che fa da registra ed ha un'azione eziopatogenetica prevalente in queste patologie. Vale a dire asma grave eosinofila, precisiamo eosinofila e occorrono particolari cut-off di osinofili per definire come tale l'asma. Quindi anche in questo senso è di precisione per il bersaglio e per il paziente. Quindi occorre che sia veramente una terapia mirata e personalizzata. Quindi asma eosinofila che abbia più di 150 osinofili per millimetro cubo nel sangue circolante. Poliposi nasale che anche questa andrà praticamente endotipizzata sempre con i criteri appositi. E anche in questo caso si possono usare i criteri, tra virgolette, euforea. Nel senso che è un polipo associato ad un'asma grave. Per esempio nel caso in cui le due patologie siano associate la probabilità di trovarci di fronte all'infiammazione T2 raggiunge l'84% oppure eosinofili che abbiano una presenza nel sangue superiore a 300 per millimetro cubo. Allo stesso modo l'interleuchina 5 ha un'azione anche di registe in patologie più complesse come possono essere la vasculite granumatose eosinofila o sindrome di Chustraus o EGPA che ha trovato notevoli conferme negli ultimi studi e in una particolare variante della sindrome iperosinofila non in quella mieloide ma quella che dipende proprio da un'iperespansione e un'iperespressione dell'interleuchina 5. Ecco, dottor Vaghi, le evidenze scientifiche hanno dimostrato efficacia e sicurezza di mepolizumab nel controllo di queste patologie. Cosa significa per i pazienti avere a disposizione un farmaco con queste caratteristiche? Beh, diciamo una grossissima innovazione perché con un unico farmaco posso andare a trattare più patologie appunto caratterizzate da un'eosinofilia e caratterizzate da un'iperespressione dell'interleuchina 5. Pensate al vantaggio di un paziente che ha un'asma, una concomitante poliposi nasale. Allora in questo caso con un unico farmaco biologico riuscirò a trattare due bersagli e l'espressione della malattia infiammatoria T2 esinofila presente nel paziente, asma e poliposi nasale. In aggiunta, perché possiamo utilizzare con tranquillità mepolizumab? Perché mepolizumab ha dato ormai ampie dimostrazioni di essere assolutamente ben tollerato. Quindi la tolleranza unita alla possibilità di trattare più patologie nello stesso soggetto rappresentano veramente un must. Oltretutto se pensiamo nel tempo le caratteristiche di un farmaco ben tollerato e sappiamo che pazienti trattati con farmaci biologici anche se affetti di asma grave quindi da un'asma estremamente difficile da trattare possono migliorare notevolmente o addirittura andare in remissione mi capisce che allora un trattamento a lungo termine con quel farmaco diventa estremamente vantaggioso rispetto alla sospensione del farmaco e a dover riprendere magari in questi stessi pazienti una terapia cortisonica ad alti dosaggi. Quindi veramente i vantaggi sono importanti anche se devono essere calibrati in ogni paziente. Per questo si parla sempre di medicina della persona. Ecco, dottor Vaghi, si parla sempre più spesso di approccio multidisciplinare ma come si traduce nella pratica clinica un approccio multidisciplinare nel trattamento di queste patologie? Diciamo un approccio multidisciplinare ormai è diventato tra virgolette una pratica sempre più consolidata in tutte le malattie complesse. pensiamo alle neoplasie polmonari dove occorrono competenze dell'opneumologo, dell'anatomopatologo, del chirurgo e dell'oncologo ovviamente. Quindi molte persone, molti medici specializzati in un determinato settore devono poter colloquiare tra di loro e arrivare a una conclusione per poter offrire le migliori terapie, le migliori opportunità per il paziente. Questo è tanto più vero anche nei pazienti con asma grave. Nell'87% dei casi, secondo il registro italiano asma, aipo, aito, presenta delle comorbidità. Quindi vuol dire che un solo medico, che sia premologo, che sia allergologo, che sia otorino non può gestire la complessità di questo paziente. E allora il momento di comunione delle conoscenze e di co-creazione delle conoscenze diventa essenziale. A questo fine, aipo, insieme ad altre tre società, o Torino, Sio, SIC e... E questa no, se non me le ricordo tutte e tre. Altre tre... Allora, le altre tre importanti società o Torino hanno avviato un programma proprio di management e gestione del paziente con asma grave e poliposi nasale grave in cui vengono definiti quali sono i criteri di questi pazienti e vengono e sono stati prodotti circa una trentina di statement che indicano come trattare al meglio questo paziente sia dal punto di vista otorino che dal punto di vista premologico. Abbiamo poi predisposto una scheda paziente finale in cui ci sarà una reportistica dell'otorino una reportistica dell'opneumologo che verranno scritti utilizzando l'asse delle X quindi per via longitudinale. Allo stesso modo, poi, nella discussione verranno ripresi gli stessi punti che sono endotipizzazione, gravità, treatable trait, trattamento proposto, eccetera verrà letto in senso trasversale per poter avere per ogni punto critico del paziente una sintesi tra lo specialista otorino e lo specialista premologo.